A Messina adesso con tempo stretto picche i genitori in carcere messinesi di 46 anni. I precedenti guai con la giustizia alle spalle non lo hanno convinto a smettere di picchiare i genitori. Così ieri, dopo l'ennesima aggressione all'anziano padre, un 46enne messinese è stato arrestato per violenza e lesioni e rinchiuso in carcere. Quando gli agenti del commissariato Messina Nord sono arrivati, il padre dell'uomo aveva ancora addosso i segni delle botte, tumefazioni ed escoriazioni sul volto testimoniavano le vessazioni confermate dalla vittima. I genitori hanno confermato che non si è trattato di un episodio, in passato aveva addirittura fratturato una tibia alla madre.